Nuova aggressione ai danni di due agenti della polizia locale, monta la protesta dei sindacati. Apre la Fiera dell'Oro a Vicenza, città blindata, domani manifestazione Notav, sindaco e questore, non saranno tollerati i disordini. Blitz degli attivisti Notav sotto la sede Iricav 2, lo striscione nel deserto di cemento, siamo la natura che si difende. Crespadoro, maltempo, crolla una strada ad urlo, chiuse la provinciale 43 fino a Campofontana per i lavori di ripristino. Torri di Partesolo sarà lutto cittadino domani per i funerali del bimbo di due anni morto dopo un incidente stradale. Nascosto tra gli scaffali di una gastronomia per bere champagne e consuma quattro bottiglie, viene denunciato. Telespettatori di Rete Veneta, buonasera, ben ritrovati a questa nuova edizione del Tg Vicenza. Apertura con un tema ricorrente in questi ultimi giorni nelle nostre scalette, ovvero quello delle aggressioni agli agenti di polizia. Ce n'è stata un'altra, due quelli coinvolti e monta la protesta dei sindacati. Nuova aggressione ai danni di due agenti della polizia locale di Vicenza, mentre erano impegnati per riportare alla calma a un uomo con problemi psichiatrici. Sono finiti in ospedale con una prognosi importante, si tratta dell'ultimo episodio nelle ultime settimane, campanello d'allarme su cui tornano i sindacati. Siamo di fronte non al primo, non al secondo, ma ben al quinto episodio di aggressione ai danni di agenti di polizia locale nel giro di 15 giorni per un totale di 8 agenti in infortunio. Già indetto nei giorni scorsi lo stato di agitazione, chiedendo che gli agenti vengano dotati di idonei dispositivi di sicurezza personale e che vengano formati adeguatamente. I sindacati CUB, UGL e Sulpl sollecitano la politica affinché la questione venga dibattuta anche in Consiglio Comunale. Ci sembra che questa serie di infortuni del mese di agosto sia stato un campanello di allarme da cogliere. Chiediamo al sindaco di uscire allo scoperto, di convocare, di discutere politicamente anche in Consiglio Comunale della faccenda sicurezza della città e sicurezza degli operatori e con il prefetto e il questore attivare più presto una forma di coordinamento che risolva definitivamente queste criticità. Far intervenire subito anche un comitato di sicurezza come già richiesto per ridigere subito una pratica operativa urgente per prevenire quello che sta succedendo. Infatti il secondo campanello dell'allarme è l'indice di frequenza e l'indice di gravità che ha aumentato in modo molto esponente. Sulla vicenda è intervenuto il sindaco Giacomo Possamai manifestando solidarietà agli agenti feriti. Voglio esprimere la mia solidarietà ai due agenti che sono rimasti contusi e feriti nell'adempimento del loro dovere. In particolare in questo caso stavano effettuando un TSO, ma in generale il ringraziamento va a tutto il personale della Polizia Locale che quotidianamente si impegna a servizio ai cittadini, anche a proprio rischio. L'amministrazione è al loro fianco e ha una particolare attenzione nei confronti di tutte le attività che vengono compiute dal corpo. Si è aperta oggi Fiera dell'Oro a Vicenza. Domani è prevista una manifestazione dei centri sociali e degli attivisti pro-Palestina. Fiera dell'Oro al Via, il mondo a Vicenza. Più di 1200 espositori che arrivano da 35 paesi. Il salone della gioielleria e dell'orificeria con i suoi 70 anni è il più longevo del mondo, ma creatività, artigianalità, innovazione, lusso vanno inseriti sullo spartito della sicurezza. Questura, carabinieri, fiamme gialle, polizia locale, col supporto dei vigili del fuoco e delle strutture sanitarie, sono in prima linea. Il piano è collaudato dalla vigilanza nelle ore notturne ai pattugliamenti e al presidio del territorio per neutralizzare il rischio di furti e rapine, ma anche il rischio di contrabbando. Tutto nel segno innanzitutto della prevenzione. Nel corso degli ultimi controlli sono stati notati alcuni personaggi che si avvicinavano alle vetture in sosta nei parcheggi esterni vicini alla fiera. Gli agenti delle volanti sono intervenuti e li hanno immediatamente identificati. Si tratta di padovani con precedenti. Accompagnati in questura, sono stati foto segnalati. Per loro sono scattati due fogli di via obbligatori da Vicenza per quattro anni. Ma la fiera dell'oro è una vetrina anche per chi cerca visibilità sui temi politici. Gli attivisti dei centri sociali sono pronti a scendere in strada con una manifestazione organizzata per sabato pomeriggio. Partiranno dal bosco di Calte, dove hanno allestito il Woods Climate Camp, con un corteo in direzione della stazione ferroviaria. Sì, sabato partiremo da qui alle ore 5 e andremo verso la stazione a dire che Vicenza ha bisogno di andare in direzione opposta al TAV, ha bisogno di investire risorse in salvaguardia dell'ambiente, in tutela della salute, in anche processi democratici che siano veramente di decisione da parte delle persone della cittadinanza, in una società di pace e non ha bisogno di sporcare risorse e territori e luoghi come questo per un'opera ecocida come il TAV. Agli attivisti del Woods Climate Camp sabato si uniranno anche le associazioni pro-palestina che organizzeranno un sit-in in viale dell'industria a partire dalle 4 del pomeriggio. L'ultima manifestazione dei centri sociali in concomitanza con la Fiera dell'Oro fu il 20 gennaio quando alcuni manifestanti che protestavano contro Israele uscirono dal percorso stabilito entrando in collisione con le forze dell'ordine. Questa volta il messaggio del sindaco e del questore è che non saranno tollerati altri disordini. Manifestare è chiaramente un diritto costituzionale, non è un diritto costituzionale poter far danni alle cose, alle persone, manifestare con violenza, quindi l'auspicio è sempre che le manifestazioni si svolgano in maniera pacifica, serena, rivendicando legittimamente le proprie opinioni e le proprie idee ma sempre in maniera pacifica. Non saranno tollerati atti di violenza, atti di preverigazione. Noi abbiamo il dovere di garantire ai cittadini sicurezza e soprattutto il rispetto dell'assoluta legalità. Intanto c'è stato un flash mob dei NoTav davanti alla sede di Iricav2. Sventola la bandiera dei NoTav. È mezzogiorno e mezza quando un centinaio di attivisti si materializza improvvisamente in Viale Mazzini a Vicenza davanti alla sede di Iricav2, l'azienda che si occupa della costruzione della Tav. Gli attivisti con una scala salgono sull'edificio e mettono degli striscioni. Lo slogan è nel deserto di cemento siamo la natura che si difende. I dimostranti sono partiti dall'accampamento del Woods Climate Camp, l'iniziativa ecologista nel bosco di Calte. Nel mirino la Tav, un'infrastruttura che gli attivisti criticano aspramente. È una costruzione che andrà assolutamente a discapito dell'ambiente e di conseguenza della salute di tutti noi. Il Tav lo sappiamo, lo ripetiamo ormai da mesi. Si mangerà fondamentalmente tutto il verde che c'è in città. Il punto è che però questo verde ha un valore ecosistematico importantissimo per noi perché assorbe solo il Bosco Lanerossi, che sono 16.000 metri quadrati, assorbe 34 tonnellate di carbonio all'anno e ne rilascia 3 tonnellate di ossigeno all'anno. Nei boschi ci sono delle temperature addirittura inferiori, in alcuni casi ai 6 gradi rispetto alle temperature cittadine. Questa cosa sarà una devastazione, questa opera, questo progetto. Andiamo a Crespadoro. Sono partiti i lavori per il ripristino di un cedimento di parte della carreggiata di una strada a Durlo. Il problema è stato dovuto all'ondata di maltempo di ieri. Frannata la strada a Durlo, cedimento che non ha provocato danni a persone o a cose, il forte maltempo di ieri pomeriggio ha fatto cedere parte della carreggiata in via Monsignor Cagliaro. La strada provinciale 43 resterà infatti interrotta per permettere i lavori e il ripristino della viabilità partiti già da stamattina. Stamattina i lavori di ripristino sono già iniziati e al momento non abbiamo aggiornamenti su quando la strada potrà essere riaperta. Ricordiamo infatti che al momento dalla frazione di Durlo si arriva fino alla piazza, le attività sono aperte, ma rimane chiuso il tratto di via Monsignor Cagliaro. Saranno celebrati domani mattina a Torri di Quartesolo i funerali del piccolo Lorenzo Albanese morto intorno a Ferragosto in un incidente a Pove del Grappa. Il comune ha proclamato il lutto cittadino. La vicenda ha colpito tutti nel profondo, tanto è vero che abbiamo deciso di manifestare la nostra vicinanza come amministrazione e tutto il Consiglio Comunale indicendo, proclamando una giornata di lutto cittadino dalle 7 alle 13. La comunità di Torri di Quartesolo dunque si fermerà domani per i funerali di Lorenzo Albanese, il piccolo concittadino di soli due anni morto 18 giorni dopo il drammatico incidente stradale a Pove sul Grappa, lungo la Valciugana, che ha visto il ferimento di nove persone tra cui anche i genitori, Anna e Emanuele. Domani saranno presenti alle 10 alla chiesa dei Santi Gervasio e Protasio ad accompagnare nell'ultimo viaggio il loro piccolo Lorenzo. Alla famiglia il comune ha voluto esprimere così la sua vicinanza. Domani intanto si tende alla cerimonia funebre, abbiamo previsto le bandiere a mezz'asta e un minuto di silenzio in concomitanza con l'inizio della cerimonia funebre. Sera nascosto tra gli scaffali di una gastronomia a Vicenza per un furto molto particolare, guardate. Ruba bottiglie di champagne, ma non perché le porti via, no, nascosto tra gli scaffali se le scola, una dietro l'altra. Succede in una gastronomia di Vicenza, l'uomo è lo stesso che aveva già portato via alcuni alimenti senza pagarli. Quando si ripresenta a qualche giorno di distanza il proprietario si allerta, chiama la polizia. Quando arrivano gli agenti delle volanti però lui se n'è già andato. Grazie alle immagini di videosorveglianza i poliziotti scoprono che l'uomo si era nascosto tra gli scaffali e si era scolato sul posto ben quattro bottiglie di diversi tipi di champagne per un valore di quasi 600 euro. Gli agenti riconoscono il responsabile? È un mendicante marocchino che ha già ricevuto un foglio di via obbligatorio da Vicenza. Per questo è stato denunciato. Ora sono in corso le ricerche per trovarlo. Ora una vicenda internazionale. Sono accusati di far parte del network terroristico russo denominato AAST presente anche sulla piattaforma Telegram. Le due persone arrestate stamattina dalla polizia di Milano, Cagliari e Vicenza hanno eseguito due misure cautelari con obbligo di dimora e arresti domiciliari nei confronti di un ventenne di origine rumena e un diciottenne cagliaritano indicati come appartenenti al gruppo suprematista e neonazista. Un'altra persona invece deteneva in casa armi da guerra. È stato arrestato dai carabinieri di Schio. È stato trovato con armi da guerra e proiettili in casa che ha spontaneamente consegnato ai carabinieri di Schio durante la perquisizione domiciliare. L'uomo, cittadino moldavo, è stato arrestato dai militari dell'arma per le ipotesi di reato di detenzione di armi da guerra e comune da sparo. È tempo di ricorrenza nel Vicentino. L'antica Fiera del Socco al Via, completati gli ultimi allestimenti a Grisignano di Zocco, sono attese oltre 15.000 persone ogni giorno per tutta la settimana dagli espositori. C'è molto entusiasmo. La Fiera del Socco è un grande evento che da sempre ci accompagna qui a Grisignano di Zocco. Il tempo adesso è così, però danno miglioramenti. Visto che partiamo bagnati, dovrebbe venire fuori il sole. Quindi sole tutta la fiera e siamo positivi. Ci vuole ancora tempo prima che puliamo, sistemiamo, cartellone. Ci vuole ancora 7-8 ore. È la prima volta o se teneva delle abitudini? Veniamo sempre, veniamo sempre. La Fiera è una fiera storica, ha sempre attirato tantissima gente. Spero che sia come gli altri anni, è stata sempre una fiera molto interessante e molto, almeno per me che sono un artista di strada, è una fiera molto importante. È gente molto cordiale. La fiera è positiva, ma io sono ottimista. L'organizzazione è M1, cioè meglio di così non si può. Poi giustamente sta tutto al nostro cielo, quello che arriva. E io sono ottimista. Sono nato a Grisignano, vivo a Grisignano, 63 anni di fiera. Abbiamo già partecipato anche negli anni precedenti. È sempre stata una fiera molto, molto intensa a livello sia di persone che partecipano e comunque anche a livello di quello che è il contesto stesso. Sì, è una delle mie belle fiere annuali. È una di quelle principali che io devo fare per forza. A parte che è una fiera di vecchia data, è molto conosciuta e poi c'è veramente un vasto assortimento di tutto. È rinunciabile perché ci si diverte la prima festa dopo la fine dell'estate. Il Comune organizza ogni anno un grandissimo evento dove arriva tanta tanta gente da tutta la provincia e non solo, anche dalle regioni vicine. È tanti anni che veniamo, lo facciamo ogni anno, ci divertiamo, facciamo da mangiare, la gente è contenta, ci conosce. Opportunità commerciali, qua ce ne sono di tutti i tipi, svago, anche la parte con Luna Park e quant'altro. Chi non è mai venuto deve aspettarsi grande musica, grandi pezzi evergreen, sia italiani che internazionali, da poter cantare assieme. Chi vuole rispettare la tradizione, cosa deve fare? Beh, intanto mangiare. Sono degli stand che ci sono qua, ci sono i paesi che sono bravissimi con la cucina, ognuno ha la propria specialità. E dopo naturalmente non puoi andare a casa senza qualcosa, qua c'è tutto. L'appuntamento serale di Rete Veneta alle 21.15 con Focus, ospiti di questa puntata, Paolo Benveniù, Paolo Dalmastro, Lucrezia Favaro, Annalisa Nalin, Rosa Poloni, Paola Roma, Massimo Venturato, Francesco Vianello. È tutto anche per questa edizione di TG Vicenza, appuntamento come sempre alla stessa ora domani, dopo la sigla il meteo. Buona serata. Grazie a tutti.